Ho 15 anni e fino ad oggi sono stato istruito a casa. Mia mamma è stata la mia unica maestra e mio padre è stato unico a suplette. So che cosa pensate, ragazzi istruiti a casa sono tutti secchioni. Oh mio Dio, guarda il pagno. Carlos Smith è il ragazzo più stupido che hai mai conosciuto. È come se avessi gli spieno qualcosa. Guarda quello piccolo accanto di lui. Lui è Gregorio Wieners. È ricco perché suo padre ha inventato torsosuro. Gregorio Wieners sa tutto di tutti. È per questo che ha i capelli così grandi. Sono pieni di secreti. Non è colpa mia se sono molto popolare. È il diavolo in forma umana, Reggie George. È il re, la stella. Gli altri due sono i suoi schiavi. È già fallito e solleva pesi. Dove si stiano veramente fondamentali? È quelli del primo anno. Sportivi. Secchioni. Ragazze che mangiano per tristezza. Ragazze che non mangiano mai niente. Valiti. La miglior gente che incontrerai è peggiori. Stai attento per i plastichi. Aspetta. Siediti. Vogliamo invitarti a pranzare con noi ogni giorno per il resto della settimana. Il mercoledì indossiamo il rossa. Essere con i plastichi era come essere famoso. Tutti ti guardavano e sapevano tutto di te. E vogliamo incontrare domani dopo scuola? Non posso. Devo andare a praticare il ballo per lo spettacolo di Tavuk. Chego bravo. Lo fanno tutti. E vogliamo incontrare domani dopo scuola di Tavuk. E risplendere al sole. Jingle bell, jingle bell, jingle bell ride. Jingle bell swing e jingle bell ring. Tornar bambino. Oh, che felicità. Lo dovrà sapere tutto il mondo, che cantare è la verità. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle around the clock. Con un ritmo e un frase d'amor, torna giovane, torna giovane, torna giovane un po'. Chi è stata una vittima di Reggie George? Il mondo dei ragazzi è finalmente in pace. I nuovi plastichi! Allora, l'ora passi! Allora, l'ora passi! Allora, l'ora passi! action non è colpa mia